Lui che vinceva questo match sarebbe come dire a Mcmorton e torna una gara di imbarco Stava in drop a cui attenzione E poi erano i viti E' quello che ci voleva a Mcmorton Che ora potrebbe diventare a dilutare il match Attenzione Lo va a prendere Alaconda Vice Iron Age E poi Alaconda Vice Alaconda Vice Team Mcmorton Slecon sta per cedere Nooo Non cede Non cede il coraggio L'orgoglio di Slecon E poi E poi Frotto ai viti E poi Mcmorton va a essere steso giù Attenzione Uh però Mcmorton Non ci credo Dove va? Dove va Mcmorton? Dove va Mcmorton? Attenzione Mcmorton Mcmorton driver Si Mcmorton driver Incredibile Incredibile No no Non ci voglio credere Non ci voglio credere Uno Due Non basta E non basta neanche stavolta Mcmorton non ci crede Ma Slecon qua A incassare un altro Burro colpo Secondo me Mcmorton Per a furbo Si prende una Una pausa Attenzione Uh sul palo Sul palo Attenzione Nooo Mcmorton Ha il match in mano qua Non può lasciarselo sfuggire Non può lasciarselo sfuggire Attenzione Lo va a prendere però Slecon Qui si addormenta Mcmorton Uh Un supex Verticale Mamma mia Dall'epro ring Cosa fa Slecon? Cosa fa Slecon da lì? Obbene Lo Slecon sul tavolo di commentatori No È il nostro tavolo di commentatori Slecon Stalky Caboto Attenzione Fatto per diretti Stavolta fuori del ring Stavolta le sterre del ring Mcmorton qua Attenzione Stalky Caboto Stavolta le portate sul ring Mcmorton è a 5 Infatti se ne abbede Lo va a riprendere Lo va a riprendere Attenzione Stalky Caboto Lo tira giù Lo allontana Bravissimo qua Stalky Caboto Attenzione Lo va a far correre Attenzione Lo va a correre E poi Dronkick Sulla schiena Ragazzi No no Lo mette Sta rischiando Mcmorton qui Rischia Mcmorton Siamo in altura Un video della terza corda Super back suplex Che proiezione Ragazzi Che mossa di Stalky Caboto Che mossa di Stalky Caboto Ma Mcmorton Non ci credo questo Mcmorton Non ci credo Face Crusher Bromton Face Crusher Bromton Face Crusher Ma attenzione Il calcio è parato E c'è la Goldstar E c'è la Goldstar Qui Tutti a casa Che bruttissima caduta Qua è finito il match Qua forse è finito Uno Due Non basta Non basta Non basta Stalky Caboto non ci crede No Che match Faboloso Fantastico Oh Doppia girocchiata Doppia girocchiata E poi Step kick Step kick Sì Ma Mcmorton Non ci credo Cup kick a vuoto Mcmorton legge a piedi Mcmorton legge a piedi Fraggio adesso Ancora Un altro Non va a correre Cup kick Cup kick Cup kick Tutti a casa E' finita E' finita E' finita Mcmorton vince Uno Due No Pazzesco Pazzesco Attenzione Mcmorton lo mette lì Attenzione Mcmorton lo mette lì Attenzione Mcmorton L'ha traspallata L'ha traspallata Attenzione Braggio adesso Ravvicinato Incredibile Vince il match E' finita qua Qua è finito il match Dai è finito Mcmorton driver Mcmorton driver Non ci credo Mcmorton è il money in the bank Mcmorton Uno Due No Non ci credo Slagon reagisce molto bene Incredibile 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 Attenzione Attenzione però qui Mcmorton Albaro Albaro Le sorte sono lontanissime Potrebbe cedere qui Slagon Sta per cedere Sta per cedere No Cosa gli fa Oh Gli rompe la testa qua Gli ha rotto la testa E poi Oh Questa chiave articolare Incredibile Slagon Incredibile Slagon Lo manda dove lo manda Lo manda fuori forse Ma Slagon di cosa fa Lo va a prendere Vertical suplex Dall'embring No Che botta Che botta Che botta ragazzi Che botta ragazzi Ancora Vediamo che la vince Vediamo che la vince La vince Slagon Fluttover Neckbreaker Fluttover Neckbreaker Mamma mia E poi per ribadire Un calcio dritto Alla schiena Alla schiena Alla gonne vertebrale Va volto con Scar Va volto con Scar McMorton Ha tutto il tempo No McMorton Cosa vuole diventare Cosa vuole diventare E lui ha voluto diventare forse il super back suplex E lui E tocca a lui adesso Tocca a lui adesso Si Mamma mia Mamma mia Ragazzi Mamma mia Ragazzi E' finito il match qua Poi il match è in concluso Dai E' finito il match Cosa fa il springboard? Cosa fa il springboard? Attenzione! Il springboard! Cosa gli ha fatto? McMarton superlativo! Cosa gli ha fatto? Non ci resta con sangue E' finito il match qua Cosa gli ha fatto McMarton? E' finito qua Un egg break Una delle sue tipiche manovre E poi Alla golla rice Stavolta le guardano sono ottenissime E' però sta per cedere Stavolta deve cedere Stavolta cedere Stavolta cedere Stavolta cedere Stavolta cedere Non ci credo No! Ancora Slakon Com'ha fatto? Com'ha fatto Slakon? Com'ha fatto Slakon? Attenzione! Lo prende! Backbreaker! Backbreaker al volo! Inversione gira volta Uno! Due! Non basta! Mamma mia! E' attenzione! Coldstar! Niente da fare! Mamma mia! Che match fantastico! Oh! Spinning kick! Spinning kick! Stavolta anche McMarton! Stavolta anche McMarton! Cosa fa Slakon? Cosa fa Slakon? Cosa fa Slakon che lui Springboard! Close line! Springboard con Slakon! Deve spiegarsi Deve spiegarsi bro! Slakon ancora! Ancora! Ma il segno! Con una sorta di leg troppo E va a chiudere Uno! Due! No! Solo due! Solo due! Ragazzi! Solo due! Fantastico incontro! Non ho parole! Fantastico incontro ragazzi! Adizionate a fronte Slakon! Fa voto! Fa voto! E un McBregor in gira volta! Uno! Due! E tre! McMarton trionfa! Di rapina! Incredibile! Incredibile! Non ci credo! McMarton! Un rientro con il botto! Il suo! Incredibile ragazzi! Non ho parole! Non ho parole! Slakon pensavo dovesse vincere questo match Vincesse questo match E invece È stato McMarton o no? McMarton che va dunque Armonia in the back Non è la prima volta che ci va È la terza volta Nel torno che gliela Non può trovare in da proprio tempo Questa volta però Deve vincere Che rientro il suo! Fantastico incontro Davvero da ricordare questo match Grande McMarton Ora passeremo a un nuovo futuro femminile Ma prima pausa pubblicitaria Con il promo di Money in the back Il suo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Rai Gostin che ha fallito la sua seconda chance contro Pizzitellona la prima prestemania ha perso il titolo femminile la seconda ha perso anche quello WLF insomma in uno stickage dove ha praticamente dominato alla fine Pizzitellona con scattrezza, un carisma e riuscito a vincere Rai Gostin dovrebbe fare i conti con se stessa e la sua Tekken Panda è niente meno che l'ex-ex campienza femminile la Liz Blader che è una Blader che insomma non vede l'ora di tornare a successo chissà quale sarà la prossima number a contender ovviamente lo scopriremo lo stesso questa sera a questo titolo femminile che insomma è nelle mani strette e ben salde di Pizzitellona, di una Pizzitellona leggenda da WLF che è tornata, ha detto ora basta con Mary Gostin io posso batterla, nessuno riusciva a batterla io posso batterla e ce l'ha fatta a Pizzitellona nonostante nonostante ma E ecco qui l'ingresso, la prima partner dell'altra coppia, ovvero Sally McDonnell. Eccola qui, Sally McDonnell. Eccola qui, la Nati. Beh, il Surrey non lo ricordo benissimo. Era una riparita con Kimberly. Poi ha perso il tutto con il Blade. Fino a mezza faida con la Blade. La sorta di fight incrociare in questo match. Anche se è quella che è data troppo tempo senza un titolo femminile. Ma stai di McDonnell, eh? Sono tre anni. Se puoi iniziare dunque, la Ricosta è subito con Nati si andava a prendere. Eh sì, si sono fatte le coppie. Sicuramente, tra Nati e Sally, la piccola è specificamente Nati. Lì il Blade infatti è la più veloce tra le due. Però attenzione, qui rimane sola. La Blade, scusate, la Mary Costin, l'ex campionista e le due di Face la prendono in consegna. Sì, qui la Blade non ho capito cosa abbiamo voluto fare. E' costruendo uno dei nostri tavoli di commento, eh. E attenzione, qui il German Suplex in medramente di Mary Costin. E poi attenzione, braccio teso. A me Mary Costin qua sembra distruttrice oggi, eh. La mente è distruttrice. Attenzione, qua la manda contro il paletto. E poi attenzione, qui il braccio teso infernale. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Oh mio Dio, ragazzi. Vamo a prendere. Face il German Suplex su Sally Victoria. Non ci credo. E poi il big splash della Blade. Mary Costin vuole chiudere. Ma Lily Blade qui all'interno un po' di parole. E poi Backbreaker, attenzione. Eh sì, voleva chiuderla lei. Allora un po' di slam su Nati. Mary Costin e Lily Blade stanno... realmente dando sfogo un grande match. E ora Mary Costin vuole chiudere. Ma attenzione a Nati qua. Attenzione Lily Blade fuori del ring. Lily Blade cosa vuol fare? Uh, attenzione, Nati. No, la Blade è matta qua. La Blade è matta. Una di litti lì sopra, forse. Una di litti lì sopra. No, la prende il volo. Powerbombo. Assit out. Incredibile. Sul tavolo dei commenti. Sul tavolo dei commenti. Sul tavolo dei commenti. Se il McToran distrutta qua. Mentre Mary Costin qui solleva Nati. E la lascia andare all'indietro. Mamma mia, ragazzi. Ma qua per sale è finita. Trova un kick sulla schiena. Incredibile. Incredibile, ragazzi. Mary Costin qua la va a prendere. Fisherman su Rex in arrivo. Non ci credo. E qui è finita. Qua è finita. Dirti!